buongiorno oggi domenica una settimana di influenza quindi non siamo andati in giro a fare altre riprese per i casei delle nove rocche quindi ho deciso di fare questo video per fare un pochino vedere cosa c'è dietro a tutto il sistema nove rocche da dove partiamo dove arriviamo che strumenti usiamo facciamo una piccola carrellata poi man mano se se la cosa prende piede se la cosa sembrava carina su vedere anche le cose in particolare proviamo in tre minuti a vedere tutto quello che che facciamo allora mi faccio fare più piccino eccoci qua questo è il nostro sito nove rocche www.noverocche.it e questo è il nostro sito principale dove vi invitiamo sostanzialmente a apri gli occhi sul medioevo e scatta perché perché nove rocche è nato un giorno un po' chiacchierando per scherzo parlando della nove colli che è una gara ciclistica che c'è qua bellissima che c'è qua in in romagna e benedetto perché non facciamo una competizione mentre di noi andiamo in giro chi fa più foto ai castelli vince uno ha detto se abbe che è la nove rocche e niente il nome ci è piaciuto abbiamo deciso di di partire da questo nel sito c'è piccola storia del medioevo che purtroppo ancora un po di lacune colpa mia dove si cerca di condensare mille anni di storia anzi all'inizio vi si dice proprio che il medioevo non esiste quindi figuriamoci un breve glossario che si andrà componendo ma soprattutto la mappa dei luoghi cioè dove noi andiamo dove qual è la zona interessata da nove rocche qui possiamo aprire la mappa un po più in grande vedete che i posti sono tantissimi nove rocche ovviamente non è che abbiamo studiato solo le rocche ma stiamo anche studiando torri castelli e pievi e via dicendo ci siamo forniti di una pagina in una pagina facebook nove rocche andate metterci un bel pollicione per seguirci e nella pagina passano sia i newsfeed da instagram che i video e via dicendo e questa è una mappa che è uscita ieri e chi ci segue magari ci sarà chiesto da dove deriva e nove rocche sostanzialmente per poter arrivare a fare le sue mappe i suoi video e via dicendo si appoggia a una piattaforma gis perché in realtà noi a lavorarci siamo archeologi e lavoriamo con dei cosiddetti geodatabase quello che vedete qua sotto è la costa romagnola queste sono queste l'emilia romagna questa qua le marche repubblica di san marino quindi due stati tre regioni mi ricordo adesso quante province tocchiamo mi sembra quattro cinque perché c'è rimini forlice cesena arezzo e peso urbino più ovviamente tutti i castelli di san marino come vi dicevo noi in realtà andiamo a lavorare su più su più oggetti di schedatura quindi andiamo a lavorare su tanti tanti siti differenti per esempio se già cambio questa cosa qui vedete che appaiono cose cose nuove quindi usiamo QGIS per poter georeferenziare i dati e ci appoggiamo a un programmino che si chiama Pairkinit poi un giorno vi farò vedere il canale apposito e noi andiamo a inserire tutti i nostri siti medievali e la prima il primo censimento è stato fatto da Cristina Burgos quindi dobbiamo ringraziare Cristina Burgos che ha fatto uno stage da noi in ditta d'arte e ha fatto questa prima questo primo censimento di di castelli rocche e via dicendo quindi tutti questi dati che noi prendiamo ovviamente li possiamo andare a incrociare con tipologie di dato differenti come ad esempio i modelli digitali del terreno che cosa sono vediamo se ne abbiamo uno qui pronto eccolo qua bel modello digitale del terreno cioè questo ci rappresenta le varie altimetrie e questo ci serve poi per studiare un pochino l'ambiente e arrivare anche a fare le ricostruzioni 3d questa per esempio è la zona di Covignano è uscito già in parte in un video dove si parla di pievi poi faremo un video solamente sulle pievi questo per esempio è il colle di di Covignano un colle vicino a Rimini dove siamo andati a ricostruire una pieve i monti la collina che vedete è realistica cioè fa parte è stata rilevata dalla regione Emilia Romagna poi abbiamo costruito ricostruito la pieve poi dentro ovviamente adesso è scarna vedete mancano i pilastri perché poi quando solo quando andiamo a fare le riprese dentro ambiente virtuale ma questo sostanzialmente ci serve per poter scegliere delle inquadrature e poi scattare delle foto sul passato basandoci su quelli che sono i dati i dati originali e altre cose sì ve l'ho detto c'è c'è il canale quindi noi andiamo in a fare fare i nostri video basandoci sulle notizie storiche e tutte le notizie storiche ovviamente da dove le andiamo a recuperare ritorno un pochino più grande eccomi qua allora vedete qua siamo tenuti da parte un po di libri rocche castelli di romagna e oppure questo libro fondamentale marco sassi mio grande amico storico medievale buxton seditore è adesso fra editore iniziato con lui la piccola studiare il medioevo la serie di romagna questo è un'analisi molto critica dei castelli non è solo compilazione questa un'altra avventura fatta con l'arsa e daniele albini guide della valmarecchia guaraldi castello di coriano promosso marcello cartocetti anche marco sassi e c'è un bellissimo corredo di castelli di di coriano vediamo se lo trovo faccio pubblicità da solo eccolo qua città da solo bellissimo disegno mio bianco e nero di castello di coriano perché ci divertiamo anche a disegnare poi altre notizie abbiamo presi qua rocche castelli di romagna 60 dipinti di giordano severi ok li andremo a vedere nello specifico sono dei bellissimi dipinti inizi novecento che si fanno vedere delle forme dei castelli ovviamente prima della seconda guerra mondiale ma in realtà anche prima di interventi recenti altro testo fondamentale a medio montemagi pianeta valmarecchia questo per andare tra rimini marche arezzo quindi passo di via maggio altro libro fondamentale dove curato da elisa tosi brandi dove ha scritto settia dino palloni che a cui va un ricordo e oreste de luca ancora marco sassi e castelli fortificazioni del riminese quindi si parla tutte le fortificazioni del riminese fortificazioni medio e vali in valmarecchia questo l'abbiamo usato per la parte alta su toscana il volume sui castelli e rocche castelli di romagna uscito per il ponte vecchio vediamo se edito da marzio casalini vediamo un po' rocche castelli di romagna eccolo qua adesso non ce l'ho con me e giù in studio altro testo che abbiamo usato eccolo qua turchini orioli viroli novara castellari uscito da poco ok su chi rocche castelli di romagna altro volume fondamentale dove oltre le notizie storiche si 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 va anche in maniera approfondita a guardare i castelli e altro volume eccolo qua pievi del territorio rimonese nei documenti fino al mille curato curati un altro fondamentale dove ovviamente in maniera trasversale si vanno a toccare i castelli perché siamo fino al mille quindi ancora non abbiamo in romagna molti molti castelli ma si parla delle pievi e quindi sono un po' le basi fondiarie che daranno vita ai castelli successivamente quindi nel tempo andremo a vedere un pochino faremo dei video dove parleremo di tutti i video parleremo di come si compila si portano i libri dentro al gisa la cartografia digitale come si trasformano in 3d come si organizzano i video per poterveli proporre e infine ultimissima cosa mi raccomando canale instagram perché tutte le foto abbiamo un canale instagram che si chiama nove rocche anzi sì nove rocche e perché abbiamo cambiato da poco l'intestazione fate foto con hashtag nove rocche e in automatico queste andranno a finire nel nostro sito internet verranno aggregate grazie al vostro hashtag quindi mettete nella nella descrizione nove rocche andranno nel all'interno del nostro sito e stiamo cercando di portare un modo nuovo di vedere i territori tra rimini toscana quindi romagna marca e toscana uno sguardo sul medioevo inedito tra tradizioni storia archeologia ovviamente enogastronomia ricostruzioni grande maio san matteo casadei dentro la ricostruzione di una casa del 1400 che abbiamo fatto presso palazzo ghetti un giorno faremo anche un video presso palazzo ghetti a rimini insomma tante cose continuate a seguirci era un video così per stare un attimo in compagnia e a presto ciao ci vediamo in giro per rocche castelli grazie